Non sono più in maggioranza, a questo punto non mi interessa più essere in maggioranza e mi determinerò provvedimento per provvedimento che andrà sui banchi dell'assise del Consiglio Comunale. E' questa la posizione dell'ex vice sindaco di Praia Mare, Pietro De Paola, all'indomani della revoca delle cariche delle deleghe decisa dal sindaco Carlo Lomonaco. La potatura di un pino in località foresta, questi motivi che hanno indotto il primo cittadino a silurare il suo vice, Reo secondo Lomonaco, di aver autorizzato lavori di manutenzione senza averne competenza. L'ex vice sindaco si è difeso nel corso della conferenza stampa tenutasi domenica mattina. Se ho preso delle decisioni arbitrariamente, ha spiegato, l'ho fatto solo perché troppe volte il sindaco non ha saputo dare risposte ai cittadini immobilizzando l'azione dell'amministrazione e sfavorendo il confronto. Durissimo quindi il giudizio di De Paola sullomonaco. Mi ha fatto una scorrettezza che non mi sarei mai aspettato. A 20 giorni dalle primarie anche io ho subito tante cose da parte sua e da parte di alcuni della maggioranza. Ho sopportato io 4 anni e 10 mesi, poteva sopportare lui anche la mia presenza questi altri due mesi. Uno strappo che non graverà sulle primarie e De Paola lo dice chiaramente. L'11 marzo si voterà e se dovesse perdere rispetterà i patti. Le primarie si faranno, chiaramente io cercherò di portare l'acqua al mio mulino. Se io dovessi perdere le primarie sarò insieme al mio gruppo fedele a sostenere chi vincerà le primarie.